Allora signori siamo questa sera al gambero rosso, ripetiamo, al gambero rosso, eccoci qua. Buonasera, sono al gambero rosso qui di Napoli, zona fuori grotta, anzi c'è già l'appartamento che Ancelotti ha prenotato per quest'inverno. Sesto piano, ecco lo stadio, un attico e super attico qui dalle parti di Florirotti, proprio sopra il ristorante Gambero Rosso il mio amico Pino. Eccomi qua in mezzo alla gente di Napoli, una delle cose più belle che possa succedere a un essere umano, stare in mezzo alla gente, su un bel marchiapiedi, ben attrezzato, con vino e quant'altro, ho messo una pizza buonissima, in mezzo ai miei amici napoletani, guarda la parola panoramica, eccoci. Pino mi ha detto che quando voglio mangiare una pizza ti puoi abbracciare sempre da te, va bene, ok? Se passate da Napoli unite al gambero rosso. Grazie. Di fianco all'appartamento di Ancelotti, non mi guarda, non volete sbagliare. Un tuo amico. Ciao. Ciao. Ciao.